salve a tutti ragazzi vieni qua vieni qua Jeff vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua vieni ha chiappato eccolo qua questo è Jeff ecco mi ha dato una zampata ah questo è Jeff è un po' stronzo però è un cane diciamo che abbiamo salvato dalla strada l'ho messo l'ho chiamato Jeff perché in onore di Jeff Porcar ma non è niente di Jeff Porcar comunque gli da fastidio la batteria ma forse gli l'ho fastidio io perché se il nome è Jeff Porcar poi ti mette a suonare tu c'ha la sindrome del cucciolo vorrebbe essere vero guarda ti puzza un po' l'alito vieni qua ti rignuti lì buono seduto stai buono facciamo i bravi il casino mi ingazza allora tornando a noi oggi parleremo delle mie bacchette le Roll le Roll questa fabbrica fatta da Alfredo e Antonio praticamente mi hanno risolto un problema grandissimo io ho il problema delle mani secche le mani secche cosa mi comportano quale difficoltà mi portano quella di stringere la bacchetta in maniera anomala cioè nel senso la stringo troppo e non ho la possibilità di avere quella fluidità quel grip giusto per far sì che posso usare anche le dita durante i concerti perché quando siamo qua bene o male tutte le bacchette le vanno bene ma quando fai un concerto dal vivo suoni altre dinamiche hai altre esigenze altre esigenze comunque succedono un po' di cose cosa è successo allora a questo punto io ho chiamato Alfredo a Gita Alfredo tengo questo problema tu me lo devi risolvere Alfredo ha detto guarda Fabio non ci sono problemi vieni qua prima di tutto noi abbiamo la 2B io utilizzo la 2B adesso sarà qualche anno che utilizzo sempre la 2B sono passato alla 5A ma la 5A essendo un po' più sottile mi scappava ancora di più perché più è la massa meglio è il grip ovviamente io avendo la possibilità di mantenere la bacchetta con un po' più di consistenza questa cosa mi dava meno stress all'avambraccio di conseguenza ai pulsi e alla spalla perché questa cosa di stringere molto forte avendo le mani molto secche paradossalmente forse in alcune circostanze è anche peggio di averle avere una sudorazione eccessiva delle mani mi comportava questo problema che mi bloccava tutto quasi come se mi stesse nell'infarto e spesso i boniti sono stato se andavo dall'osteopata per risolvere questi problemi niente vabbè comunque cosa è successo Alfredo e Fabio mi spiettano vado a risolvere i problemi mi ha fatto due tipologie due tipologie di bacchette scusate ragazzi ma dopo Capodanno è dura Fabio allora adesso ti faccio una bacchetta del genere questa è la Rollo questo è il marchio ok Alfredo grande intenditore prima di tutto mi ha dato l'acero nordamericano no scusami l'aicori scusate l'aicori che sarebbe il nostro nocio l'albero di noci nordamericano essiccazione naturale cioè nel senso stagionatura naturale molte aziende stanno utilizzando la stagionatura diciamo quella la non naturale nel senso le mettono in un forno però in alcuni casi le fibre si staccano troppo velocemente all'interno delle bacchette e spesso e volentieri c'è queste bacchette che schizzano pezzi si spaccano una continuazione questa qua invece è una essiccazione naturale mi ha fatto un collo più spesso per le mie esigenze lavorative e poi mi ha fatto due tipologie di vernice sulla stessa bacchetta tutte le bacchette hanno diciamo un processo di verniciatura che serve come impregnante per non farle diciamo per chiudere i pori esterni della bacchetta e lì mi ha fatto due procedure nella prima mi ha fatto la laccatura classica di tutte le bacchette e da qua invece mi ha fatto una verniciatura più grassa ora vi faccio vedere una cosa io ho sempre le mani secchissime cioè io ho sudorazione zero infatti in alcuni casi si vedono delle cose delle crepe bianche in mezzo vabbè guardate qua io dovete fidarvi di me con la stessa intensità con la stessa forza stringo questo lato qua guardate qua sto stringendo di meno eh ve lo giuro anzi apro anche queste due bacchette apro anche queste e mi resta la bacchetta in mano per me è una cosa dopo anni e anni che ho sofferto di questo problema ho risolto un grande problema la bacchetta è circa e oltre 60 grammi sicuramente quasi 70 è una grandissima bacchetta io mi trovo benissimo il collo è leggermente più spesso delle altre Jeff sei fermo? ui sto parlando e la capocchia è ogiva la classica testa delle bacchette sembra un po' più spesso essendo più grande la bacchetta niente ma se ti risolvo i problemi è andata male termo restringente ti faccio la bacchetta col termo restringente io ero scettico ha detto ma non è che si aumenta aumenta ha detto ma proviamola e ci ho fatto un concerto a Piazza del Prebiscito il primo dell'anno cioè l'ultimo dell'anno ho fatto il concerto insieme a Franco Ricciardi a Piazza del Prebiscito è stato emozionato perchè stiamo con la gente però una cosa bella che sta bacchetta mi ha risolto tutti i problemi faceva freddo avevo le mani secche come al solito qua madonna mi ha risolto i problemi la bacchetta aumenta di qualche micron ma ragazzi stiamo parlando di cose impercettibili cioè ci si abitua molto velocemente e se state bene con la testa non ve ne accorgete nemmeno perchè quello che dovete fare è suonare non guardare la vite il battente la pelle se stai sereno tu suoni con qualsiasi tipo di bacchetta se non hai difficoltà come ce l'ho io oppure come una persona che ha sudorazione eccessiva delle mani ecco la cosa bella di questa bacchetta che mi è quella cosa più bella che durano una vita a me servivano un paio di bacchette fra soundcheck e concerto alcune volte anche tre e in passato pure quattro questa bacchetta mi ha risolto i problemi adesso vi prendo una delle bacchette che ha fatto sia il soundcheck che tutto il concerto quindi stiamo parlando di cimazzo io suono forte anche se dai video può sembrare che non suono forte e ci sono molti batteristi che sembrano che suono forte che si sbattano molto ragazzi io suono fortissimo ma non è una cosa non è un bant è il mio modo di suonare infatti chi viene e dice ma Fabio se hai un volume molto alto rispetto a quello che si può vedere dai video dico sì ragazzi suono forte vabbè cazzo non andiamo a charleson alla fine eccola qua questa ha fatto tutto il concerto vabbè quasi è consumata di più perché avendo il charleson un po più alto ho suonato di taglio tutto il tempo quindi si è consumata di più ma a retto non si è spaccata e soprattutto qua non si è sfondata questo è il lato del rullante come potete vedere non si è rotta la cosa bella che oltre a mantenere tutto il tempo il time non non ha ceduto nel senso di solito sai la bacchetta inizia a cedere suona male la senti morta in mano invece no che sembra una cosa bella e niente cosa dire dopo tanti anni ho risolto un grandissimo problema che mi costringeva a suonare stanco avere problemi fisici avere tante difficoltà quindi cosa dire alfredo e antonio mi hanno risolto un grandissimo problema io vi consiglio di provarle di chiamarli e di metterli confrontarmi perché loro non è che danno le bacchette a tutti dicono che esigenze hai che colore la vuoi cosa vuoi farci con le bacchette come suoni quale sono le tue cose e smettano a disposizione ci vuole un po' di tempo perché sono selettivi cioè loro prendono questo noce stagionato naturalmente non artificialmente quindi non li mettono nel forno a stagionare questi pezzi di legno che vengono dall'america ma li prendono già stagionati quindi costa un po' di più il legno e però se una bacchetta mi dura tutto un sound check dalla mattina alle 11 fino alle 2 del pomeriggio perché era un allestimento nuovo mi faccio tutto il concerto e questo è il risultato per me questa bacchetta vale 4 bacchette ok quindi ho risparmiato 4 bacchette un abbraccio a tutti arrivederci e più tardi faccio anche un video ciao